Così vedrai quanto sono pallidi i fili rossi delle persone che inciampano apposta sui sassi, per poi scacciarli in corratta. I fili rossi pesano sull'esistenza già scritta delle tue ali spezzate, aggiustate con lo scotch che servi nei bicchieri della solitudine e che offri nei bar alle fanciulle sbagliate. Prova invece a stupirti, a guardare i denti storti che non hanno paura di sorridere. Prova a cercare una galassia nel succo della pelle a brucia d'arancia. Corri, corri, corri per i campi senza uno scopo e dimentica i cliché, i sentieri già tracciati, i luoghi comuni. Nessun luogo è comune quando non senti le uscite di sicurezza e le scale antincendio. Lascia quindi che il fuoco possa inghiottirti senza controllo, perché il controllo è niente senza una relazione. Ma una relazione può essere tutto senza controllo. Vedrai, starai meglio se dimentichi del tritacatta le istruzioni per la prigione. Le catene non servono quando non ci sono schiaghi. Grazie.